A breve finiremo il liceo e non ci ha lasciato altro che la nostra educazione. No, non finché non ci saremo divertite per davvero. Perché abbiamo iniziato a vivere solo adesso. D'ora in poi promettiamo di vivere la nostra vita senza avere... Erika, ti senti bene? Oddio, cos'è successo? Come faccio ad essere lì e ancora qui? Sono un fantasma. Come faccio ad essere morta e camminare, parlare? Lo sanno. Ora lo attraverso. Devo avere un invito. Non sei un vampiro. Ti iranno spingere. Vabbè, dobbiamo capire cosa mi sta succedendo. Loro sanno tutto dell'occulto. Magari hanno risposte. I fantasmi sono fantasmi perché hanno un conto in sospeso nelle loro vite. Finché non avrò risolto il mio conto in sospeso, mi darò da fare. Stai traendo il meglio dal poco di vita che ti rimane. Almeno non rimarrò incinta. Aspetta, posso? Esistono i fantasmini? Ho una scappatoia. Che scappatoia? Posso restare qui se sono più famosa da morta che da viva? Per la cronaca, gente, io ho paura. Sei Erika Boo, stranzetta. Hashtag sì. A me piace Erika. Calmo. Io ho scopato con un fantasma sexy. È problematico. Annulliamolo! E vorresti postarlo dall'aldilà? Perché sei così ostile? Mi sto evolvendo. In quanto mia amica dovresti permettermi di far crescere i miei follower. Il mio nome è Erika Boo e questa è la mia cazzo di testa. Già. Se non ti piace, quella è la porta. Dio, amo quella stronza. Tantissimo. Potresti ritrovati in un'assurda, oscura situazione. Ti servono le ossa di una colomba in lutto e la cicuta. O succhi di frutta.